Molto particolare, il mio nome è vecchio, è un nome molto antico, tecniche apparentemente semplicissime, ma il maestro è spesso, la potenza è elevata, il maestro casa è molto spesso presente in Italia, fa gli stessi di aggiornamento e tutti i seminari che l'Istituto sono per l'Italia organizzata, per il miglioramento dei tecnici italiani. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!